Pietro ASMR Konnichiwa Mi sto sempre di più innamorando del Giappone Ciao a tutti ragazzi Come va? Spero tutto Benvenuti o bentornati in un mio nuovo video Come state? Oggi per la primissima volta Vabbè, no Non è proprio la primissima però Per una, due, pochissime volte sto registrando di sera Sono infatti quasi le 11 di sera Quasi le 23 del 22 luglio Questo video lo starete guardando il 4 agosto Penso, credo Perché sapete che sono in Portogallo Mi sto preparando tanti video prima della partenza Come molti di voi sanno io partirò per il Giappone E voi prepararmi al massimo Per questa fantastica esperienza che avverrà i primi di settembre Dal 3 settembre al 13 settembre E allora ho detto Ma visto che i giapponesi e l'inglese non lo sanno Perché non fate di imparare la loro lingua E quello che sto facendo è proprio questo Ora ve ne andrò un po' a parlare Prima però voglio ringraziare gli abbonati del momento E non sono tantissimi quindi finalmente riesco a salutarli senza perdere troppo tempo Anche se mi piaceva anche quando erano tanti Quindi sarò di ringrazio del loro grande sostegno aggiuntivo Matteo Rucoli Laura L Enrico Abona Tania Turino Marinella Magagni Kakarot 121 Ovvero il buon Francesco Alex 2904-1975 Il sopra maestro Derrick Jacopo Vismar Il pilota Jack X The Cap Emanuele De Luca 3-0 Paccosi Saba Kunumaki Zanna Michael Spattery Cristina Ratto MKMazzi88 Leonardo Nemez Loggi 26 Caprile Furnacciari E il Fragolino Pazzo Grazie di cuore Tutti 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 Per dare questo supporto Accentivo al canale È davvero molto molto importante Ciò che fate Se anche voi vorreste dare un aiuto in più al canale Tra davvero partire questa piccola famiglia degli abbonati E ricevere i campi, ovviamente, dei vantaggi Vi ricordo il link nella descrizione Eppure il tasto abbonato accanto a quello iscriviti Potrete sostenere il canale E avere patch fedeltà per essere sempre riconosciuti O emoji da usare anche nelle chat Qui dei commenti A soli 99 centesimi al mese Quindi è proprio il costo di un caffè mensile Te ne sarò tanto grato Come sempre vi ricordo di lasciare un super mi piace E di iscrivervi al canale Se non l'aveste ancora fatto Sapete il video Sono i 40.000 iscritti Entra la fine dell'anno Con su di voi E in più vi ricordo Di iscrivervi su Instagram Per non perdermi questo aggiornamento Link in descrizione Per questa sessione di video Mi sono preparato Una tisana che sembra sangue È vero Ma è tisana Ha frutti di bosco Fredda È buonissimo È davvero dissetante Mamma mia Oh Sono discerato Allora Vi faccio vedere un po' qua Le cosettine che ho Per questa visita del Giappone Ho un bel po' di libri Allora A partire da questo Che ci avevo fatto vedere È autostop Con butta Viaggio attraverso il Giappone Di questo Ragazzo qui Che ha fatto in autostop Dal nord al sud del Giappone Bellissimo Fa vedere La meraviglia Della popolazione giapponese Perché è una popolazione Meravigliosa Penso alla migliore del mondo La più educata La più accogliente Non vedo l'ora davvero Di conoscere i giapponesi E tra l'altro Sarò addirittura In un hotel Dove c'è la spala aperto In mezzo agli appennini giapponesi Quindi pensate Che meraviglii video Posso fare lì Perché ne farò molti Di video in Giappone Vedrete 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 Sarà un viaggio Mamma mia Con quante cose Con quante cose Quindi mi sto appassionando La cultura Tramite questo libro Oltre che Andare a guardare Le miliardi Di possibili attività Che posso fare A Tokyo Ovviamente Prima tappa Grande capitale del Giappone Davvero fantastico E dentro Ci sono così tante attività Che Mi sto emozionando Vedendoli Una dopo l'altra Troppe cose Troppe troppe cose Tutte assieme Davvero Tokyo È meravigliosa Poi Devo dire Che ho preso Anche i biglietti Per Uno dei vari divertimenti Che ho considerato Tra i più belli del mondo Sto parlando di Tokyo Disney Sì Non ecco parco Disney a tema Acqua Ma ve ne posso parlare In un altro video a parte E poi L'ultimo è arrivato Comprato proprio ieri È lui Parlo Giapponese Questo qui È un libricino Manuale di conversazione Per capire Farsi capire Con davvero Basi Basi Per il giapponese Per 4000 vocabili 2000 frasi È fighissimo Perché io me lo porterò dietro Non voglio usare Il traduttore di Google Voglio fare tutto cartaceo Anche per trovare l'attività Ho tutto di carta Mi piace fare con carta Perché con la tecnologia In cui ci sono tantissime cose Da imparare Per le basi del giapponese Che è una lingua Bellissima Secondo me Impossibile da scrivere Però troppo troppo belle Ora andremo a leggere A studiare A sottolineare Diciamo le cose un po' più importanti Perché poi magari chissà Tornato dal Giappone Sono così innamorata Che inizierò anche un corso Di giapponese a Roma Oltre che E voler continuare La lingua inglese e spagnola Mi voglio tentare Anche portare Anche nel giapponese Vedremo un po' Vedremo un po' Allora Andiamo a vedere un po' di frasi Se qualche giapponese mi segue Che ovviamente Sa l'italiano Prego di dirmi nei commenti Se sto pronunciando bene Perché Qual è il dato negativo Di non avere un video E che La pronuncia La devo inventare da solo Però sono fiducioso Che Posso andare bene Poi i giapponese mi capiranno sicuro Perché vedranno Che io sono straniero Poi quando mi risponderanno Non so Se sarò in grado Di percepire il messaggio Però Anche con i gesti Noi italiani Siamo bravi Non la saprò cavare Allora 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 ho messo lo scontrino Essenzialmente È una delle parti principali Perché è La parte del Comunicare Devi essere in vari settori Questa è la parte del comunicare Guardate già Quante cose ci sono Ci sono davvero tantissime Poi sono scritte anche In giapponese Per far vedere Come sono scritte Questo è proprio fatto benissimo Questo libretino Per la conversazione C'è tutto poi In giapponese È qualcosa di Magnifico Troppo bello Allora In questa parte Ci sta È Ide salutare Che salutare Sicuramente Importantissimo Della cultura giapponese Vediamo se c'era scritto qualcosa Perché qui Ecco le formule di cortesia Perché le espressioni Più comuni Vogliamo vedere Anche le espressioni Più comuni Però diciamo Quella del saluto È molto importante Poi farò anche un video In come ho organizzato il viaggio Ragazzi non vi preoccupate Perché tante cosette È Sul fuoco ci sono Allora Formule di cortesia In giappone In qualunque contesto Viene riservata grande attenzione Alle forme di saluto Ringraziamenti e rispetto Altronde questo rispecchia Proprio alla popolazione Esistono molte forme di ringraziamenti Di scuse A seconda del contesto E dell'interlocutore Spesso accompagnate Da un inchino Più o meno profondo Ma anche l'inchino Questo non è infatti Quello che vi ho fatto in inizio video E vi avevo detto Niciwa che significa Appunto ciao Ma può significare varie cosette Poi ve ne parlerò Meglio andando avanti Nel video Allora Voi rilassatevi Eh Non spaventatevi Allora Una forma importante Sicuramente Per favore Perché giustamente Quando andrò a chiedere È un bicchiere d'acqua qualcosa Per favore È bene dirlo Quindi Onegai shimasu Onegai shimasu Onegai shimasu Onegai shimasu Quindi per favore Onegai Onegai shimasu Onegai shimasu Onegai shimasu Onegai shimasu Per favore Onegai shimasu Mi piace Invece voglio dire Grazie Grazie E arigatou 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 Lo conosciamo In molti nasi usata molte volte, anche se io arigato non sapevo nemmeno il significato, dicevo arigato, arigato, ed è grazie, e se solito no l'inchino viene accompagnato proprio in questa frase molto importante, quindi onegaeshi masu, però ecco, arigato, grazie. Poi ci sarebbe questa espressione molto difficile, che è domo arigato gozaimasu, che sarebbe molte grazie, si complicano molto, ma davvero per come è scritta, penso che la scrittura allo straniero non potrà mai impararla, io penso la scrittura sia un qualcosa di impossibile, se vuole mettere a fuoco la telecamera, ecco, la scrittura penso sia un qualcosa di impossibile, per dire grazie, questo qui per dire grazie, ma mamma mia, ma come si può, mamma mia? Allora, ovviamente che cosa vogliamo dire anche? Prego, perché ne abbiamo detto, per favore, però, grazie, prego, prego, come lo andiamo a dire, prego, do itashimashite, 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 do itashimashite, e nel salutare, molto importante, questo lo voglio imparare, è appunto il dire il buongiorno, ma come viene utilizzato, ovviamente buongiorno è per la mattina a forma di cortesia, e poi abbiamo ancora un altro buongiorno che è utilizzato dopo mezzogiorno, che è quello più famoso, che può essere utilizzato però anche per dire ciao, quindi anche per dire ciao è utilizzato questa espressione, sto parlando di konechiwa, konechiwa è anche utilizzata per dire ciao, e vuol dire anche buongiorno dopo il mezzogiorno, quindi konechiwa, konechiwa, buongiorno dopo mezzogiorno, konechiwa, konechiwa, dopo abbiamo, buongiorno, la mattina a forma di non cortesia perché si distinguono diverse forme, ed è oaiu, questo è molto semplice perché che mi ricorda al waiu, no, waiu, 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 buongiorno, poi abbiamo invece quella di forma di cortesia che è waiu, e poi abbiamo il kozai masu, waiu 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 kozai masu, buongiorno, cortesia è questo kozai masu, dov'è che lo troviamo anche? Eccolo qua, molte grazie, tomu arigato kozai masu, e significa quindi, è qualcosa per dare un tono maggiore, ecco, che ce lo riconosciamo, buonissimo, allora, e per dire invece ciao, oltre ad essere coni ciao a, e anche yaa, 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 e anche salve, diciamo più che ciao, yaa è salve, yaa, 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 salve. Allora, poi che cosa abbiamo? Abbiamo il buonasera, anche questo è importante come forma di saluto, buonasera, 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 buona, buonasera, 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 buonas Con banua Con banua Arrivate a capire con me che non è semplice semplice Anche perché io ora sto studiando delle frasi senza avere delle basi Perché io so che in inglese appunto Buon, good, sera, evening E quindi good evening, buonasera Posso fare la frase costruita qui magari Con banua, con magari è buona E banua è sera, con banua Con banua, con banua, con banua Quindi con banua io sto facendo ora un corso accelerato Perché devo partire tra meno di un mese No, tra più di un mese però Sto facendo un corso di memoria attualmente Perché voglio sapere un po' di basi Proprio di parole basi da poter dire giapponese Che andrò ad incontrare in Giappone Perché mi piace usare le lingue del posto Ora, che cosa abbiamo? Importante è sicuramente anche Addio E addio che può essere anche Arrivederci È usato nella stessa maniera Ovvero sayonara Anche sayonara la conosciamo come espressione No, più o meno Sayonara Addio Arrivederci Sayonara Sayonara Addio Arrivederci Sayonara 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 Allora Qui, per esempio Mi voglio presentare No Perché sono in hotel e mi voglio presentare Che cosa faccio? Devono essere forti pronunciati Qua c'è scritto Devono essere pronunciati forti C'è scritto in questa parte Forti o pronunciati Quindi Allora Mi chiamo Pietro Pietro Foruti To Himasu Pietro To Himasu Pietro Foruti To Himasu Pietro Foruti To Himasu Questo forti è anche tradotto Perché qua c'è scritto Foruti Quindi Pietro Foruti To Himasu Pietro Pietro Foruti To Himasu Pietro Mi chiamo Pietro Pietro Foruti To Himasu Pietro Furuti Doimasu Immaginate, molto difficile Poi, essere o non essere d'accordo anche con i giapponesi Perché? Perché i giapponesi non rispondono alle domande con un se così o no Sarebbe troppo semplice Piuttosto, soprattutto per indicare distenso o rifiuto Preferiscono usare locuzioni che suonano come è un po' diverso Ci penserò E molte espressioni giapponesi sono volutamente indirette Per attenuare o rendere meno scortese la negazione Invece di dire no, si cerca di sottolineare le possibili alternative o soluzioni Questo è perché i giapponesi sono delle persone fantastiche Non possono dire un secco no Devo dare spiegazioni a trovare un modo per uscirne Vediamo come si dice Mi piace Sì, grazie Perché arigato sappiamo cosa significa appunto Grazie Per esempio, se io voglio andare a dire no, è iè Iè E qui devo capire un po' se la pronuncia va bene perché è particolare Iè Due i e una e Iè 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 Oh, arigato Iè 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 No Iè No Iè No Iè No Molto bellino Allora Per esempio Per esempio Questa fa troppo indire Basta così Sto facendo qualcosa Basta così Mo Checodesu Mo Eh, mo basta Basta così inizia con Mo Checodesu Mo Checodesu Mo Checodesu Mo Checodesu Checodesu Mo Checodesu Mo Checodesu Mo Basta Basta così Mo Checodesu Ma bella carina questa Allora Adesso Invece Le espressioni più Comune Questa dovrò dirle Perché io sono straniero In Giappone Sono straniero Si dice Watashi wo Kaiko Kujindesu Mazza Facile Allora Watashi wa Kaiko Kaiko Kujindesu Watashi wa Kaiko Kujindesu Difficilissima Watashi wa Kaiko Kujindesu Watashi wa Kaiko Kujindesu Molto difficile Questo suono straniero Adesso vogliamo imparare questa qui E parlo solo un po' giapponese Nihongo wa Sukushishika Anasemasen 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 è giapponese Anasemasen Nihongo wa Sukushishika Anasemasen Nihongo wa Sukushishika Anasemasen Quindi Parlo un po' di giapponese Chissà se lo potrò dire da qui A un mese poco più Nihongo wa Sukushishika Anasemasen Parlo un po' di giapponese Nihongo wa Sukushishika Anasemasen Ma va una difficilessima Non ho capito Perché sicuramente mi verrà da dire Non ho capito Wakarimasen 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 Non ho capito Wakarimasen Wakarimasen Quanto è difficile ragazzi Non so se ce la farò mai Spero di sì Allora Per esempio Puoi scrivermelo Perché magari non voglio che me lo scriva Che cosa dico Can you write me? No Devo dire Kajde kudasaymasen Kajde kudasaymasen Kajde kudasaymasen Kajde kusataymasen Kajde kusataymasen Kajde kusataymasen Puedo scrivermelo Kajde kudasaymasen Kajde kudasaymasen Kajde kudasaymasen Kajde kusataymasen Kajde kutasaymasen Quindi queste comunicare sono molto importanti sicuramente per le prime le prime volte Allora, vediamo qualcos'altro, qui abbiamo fare domande, vediamo un po', per esempio vuoi sapere quando apre il negozio, no? Quando apre il negozio? Io parlerò con i libri c'è nemmeno, penso. Quando apre il negozio? E poi, importante, perché sono italiano questa sicuramente, no? Fare conoscenza, conversare. Sono italiano. Per esempio, sono studente. Ma voglio invece dirvi, importanti, no? Quanti anni hai? No? Classica frase, non sai desu qua? Non sai desu qua? Desu, penso, sia il verbo. Il verbo che si ritrova in molte frasi alla fine. Sono italiano. Quanti anni hai il verbo? Però è strano, teso. Non è molto facile da poter capire, ragazzi, come dico. Festa nazionale giapponesi, festa ricordanza. Allora, mesi, no? I mesi andrò a settembre. Settembre si dice kugatsu. Kugatsu. No. Kugatsu. Settembre. Kugatsu. 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 Settembre. E invece io, quello che voglio vedere anche, sono i giorni della settimana, perché arriverò di lunedì, che si dice cetsuyobi. 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 Lunedì. Sarà il tre. Il tre, perché si usa il tre giorni del mese. Il tre è mikka. Quindi, io arrivo il mikka. Kugatsu. Mikka, kugatsu. Il terzo settembre. Kugatsu. Mikka. Kugatsu. Mikka sarà il tre settembre. Kugatsu. Mikka. Il tre settembre. parti del giorno, non ci interessa. E nemmeno questo, che ore sono. Voglio vedere, c'è un altro, ieri, ferriari, oggi. Kugatsu. 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 E poi, volevo vedere velocessivamente i numeri, perché la lingua giapponese ha adottato l'uso delle le cifre arabe, senza abbandonare le cifre della propria tradizione. Non esiste quindi una vera regola, ma di solito quando si scrive in particolare si usano i numeri giapponesi, mentre in orizzontale si usano quelli arabi. Quando però si tratta di riscrivere una parola che include in sé un numero, ad esempio triangolo, allora si usa sempre la scrittura giapponesa del numero. Quindi, serie cinese, serie giapponese. Numeri cinese, tutti i cantari, numeri cardinali per il numero 12, esiste anche una serie giapponese. La serie cinese si usa sempre in parole composte con vocabula di origine cinese. Noi vogliamo vedere la serie giapponese, se permetti. Ebbè, quindi uno è, vediamo se è quello difficile. Rei zero, i, i, chi, ni, san. Beh, è più facile, è più facile quella cinese. Serie cinese, no, il cardinali per il numero 10, è anche una serie giapponese. Da un 1 al 10 esiste una serie giapponese, dall'1 al 10 poi sono uguali per tutti. Allora, in giapponese l'1 è... Ito-tsu, Fatatsu, Mitsu, Iotsu, Itsutsu, Mutsu, Nanatsu, Iatsu, Kokono-tsu, To. Oh, To, il 10 è il più bello, To. To. Invece in cinese il 10 si dice... Yuu. Madonna, proprio difficile. Quindi, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Ito-to-tsu, Futatsu, Mitsu, Iotsu, Iotsu, Itsutsu, Mutsu, Nanatsu, Iatsu, Kokono-tsu, To. Allora, nel momento in cui ti perdete a vedere che il paro giapponese finisce qua, che ho visto un po' di base, così qua e là, i numeri sono sicuramente importanti anche. Per sapere, no, quanto costa 44 ien, magari il 44 sarà Iotsu, Iotsu, chi lo sa, però sicuramente sono importanti da sapere anche i numeri, oltre che le cosette che abbiamo visto oggi. Se volete imparare una lingua, vi consiglio, insomma, questo da portarvi dietro e di ballarti, manuari di conversazione, ci sono con tantissime lingue, ovviamente ho scelto uno giapponese, perché devo imparare il giapponese. E sono vocaboli per turismo, lavoro, studio, conoscere altre culture, e implemento ovviamente insieme a tutto questo per il mio bellissimo viaggio. È difficilissimo, non so da me, però io ci voglio provare, ci voglio provare. Quindi, io vi voglio dire... Arigato, per aver visto questo video, spero di avervi rilassato con queste parole giapponesi, italiane, no, quella... Spero di aver fatto bene la pronuncia, se qualcuno di voi conosce, me la dica nei commenti, e ora non posso fare altro che quella rivolta, tranquilla, gioiosa, e serena. No, 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 no Grazie.